Ecco, l'auditorio moscurato da graffiti, quello che Bruno Vespa a pochi giorni orsono ha definito l'unico gioiello costruito a Roma negli ultimi 40 anni, è quasi ridicolizzato dalla quantità di sporcizi e di graffiti che lo scendono. Ed oltre a ciò, i cavalcavia, i ponti del viadotto di Corso Francia danno rifugio a nomadi o chi per loro. Ecco la cosa più bella di Roma degli ultimi 40 anni.